ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial in collaborazione con il sito cobeads andremo utilizzare questo set di resina questo è il codice e se vi siete persi l'unboxing ve lo linko anche qui nella id informazione dove ho preso diversi prodottini tra cui anche il tappetino che è sotto per proteggere tutta la scrivania i guanti non li andrò ad utilizzare perché mi stanno piccoli e quindi ho messo i miei all'interno ci sono anche questi tre stampi per realizzare un portagioie ovviamente oltre a questi tre stampi del coperchio e i due supporti ci sono anche questi tubicini in plastica ci sono quattro tubicini ed eccoli qui ve li metto per grandezza ed eccoli qua perché possiamo realizzare un portagioie con più con più sezioni possiamo realizzare quello basic utilizzando questo qui e utilizzando appunto solo questi tre oppure possiamo poi una volta catalizzate i primi scomparti possiamo riutilizzare di nuovo questi stampi per fare altri scomparti del nostro portagioie e realizzare un portagioio più più grande più alto di quattro cinque scomparti quindi utilizzare questi tubicini qui in plastica più lunghi quindi adesso andrò a realizzare un portagioie semplice basic utilizzando soltanto questi tre stampi così poi nei prossime volte vi mostrerò anche le altre versioni a più ripiani questi li rimetto di nuovo qui dentro perché ci serviranno ovviamente in un secondo momento vi mostro anche il codice sconto che mi ha dato appunto il sito di cobiz che è questo qui se volete acquistare il telefono scarico se volete acquistare qualche prodotto questo codice sconto del 3 per cento senza minimo di spesa ve lo metto anche ovviamente in descrizione il codice sconto come vi dicevo prima la resina vado ad utilizzare la resina epossidica io ho già l'ho miscelata ed eccoli qua ho realizzato sia questo qui che è un colore trasparente con soltanto con glitter ho aggiunto queste codette dorate e fucsia questi glitter qui questi glitter qui bianchi all'interno della resina trasparente e ho realizzato appunto il primo colore poi il secondo colore ho realizzato questa sorta di fucsia aggiungendo soltanto il fucsia il pigmento fucsia che è questo qui e poi di nuovo i glitterini questi qua bianchi e ho realizzato appunto questo secondo colore ed eccolo qua adesso pensavo di andare prima a versare all'interno di tutti i stampi sia questo che quest'altro prima il trasparente ok quindi vado a versare prima il trasparente ovviamente l'ho verso anche da quest'altra parte adesso prima di aggiungere il secondo colore con un dotter vado a ripercorrere tutti i bordi in questo modo se ci sono bollicine vengono tutte quante a galla ok stessa cosa faccio anche da quest'altra parte e adesso vado a versare il secondo colore ed ecco qui il risultato adesso passo velocemente l'accendino e adesso attendo alla catalisi rieccomi le creazioni si sono catalizzate sono trascorse esattamente due giorni e quindi adesso andiamo a scoprire che poi tra l'altro ho versato anche la resina in questo spazietto non so se serve o meno l'ho collato ugualmente allora questo è la parte sopra poi andiamo a scoprire questo non che bello ed ecco qua molto molto bello un po' effetto sfumato ci sono anche delle trasparenze qui mi piace davvero come è venuto vediamo anche l'ultimo questa parte qui ok bisogna fare attenzione ok ed ecco qua anche l'altro pezzo ci sono io ciao e questo è il retro mi piace tanto come sono venuti laterali con questo effetto sfumato vedete poi tutti i glitterini qui in alto adesso vado ad assemblarlo con questi tubicini qui in plastica che sono usciti a parte in dotazione sempre nel kit vado a prendere questo qui piccolino ma credo che dovrò realizzare un altro di questi perché se andiamo ad impilare tutte le varie parti vedete in questo modo è stra semplice resta lo spazietto resta un po' di spazio e quindi andrò a realizzare un altro di questi per poter poi completare il mio portagioie vado a realizzarle nella medesima colorazione sempre fucsia con sempre i stessi glitterini in modo da da completare il mio portagioie davvero molto molto carino al limite andrò a realizzare questo qui con gli scomparti in modo che posso inserire in ogni scomparto una collanina diversa così non si vanno ad aggrovigliare tra di loro e questo me lo tengo che ne so per gli orecchini andrò ad inserire che ne so un tipo quella tipo gomma pioma per andare ad infilare tutti i vari orecchini a perno e per quanto riguarda questa parte qui bisogna collarla perché poi effettivamente quando andiamo a realizzare anche l'ultimo si va a fissare questa parte qui con un po' di resina UV o un po' di colla e poi è completo così anche dall'alto è carino e non si vede appunto il tubicino questo qui in plastica davvero molto carino questo stampo ve lo straconsiglio io vado a realizzare un altro di questi e poi vi mostro il portagioie terminato e eccomi questo risultato come dicevo prima con la resina UV ho fissato appunto questo bottoncino qui in alto e anche il primo cassettino qui sul retro dove è presente appunto il tubicino in plastica quindi ho aggiunto un po' di resina UV all'interno del foro di questo primo cassettino e poi ho aggiunto il tubetto in plastica e poi l'ho catalizzato appunto in lampada il risultato è davvero molto molto carino io già l'ho riempito con le mie cosine ovviamente adesso ho messo qualcosina così però l'effetto è davvero molto molto carino così con tre cassettini con il coperchietto e ho messo qualche collanina che ho indosso di solito tipo questa qui con la luna quest'altra con il cornetto i miei soliti orecchini a cerchio perché io indosso maggiormente gli orecchini a cerchio gli air cuff la collanina questa qui con le stellucce poi qui ho messo qualche altro orecchino ma credo che metterò uno strato sottile di come a piuma per andare a fissare appunto tutti questi orecchini qui con le perline di acqua dolce anche questi questi perlini qua con i diamantini poi qui ho messo i miei i miei anellini qui questo è un altro paio di orecchini altri orecchini qua sul retro insomma adesso andrò un po' a selezionare anche tutte le cosine che indosso e non indosso così in modo da tenere tutto sotto sott'occhio e credo che andrò a realizzare altri tre o quattro portagioia solo per me perché ho davvero tantissime cosine anche uno al limite per i bracciali quelli lì sempre fatti in sempre fatti in metallo con pietre con perle e quindi andrò a realizzarmi sicuramente altri al limite in varie sfumature così quando siccome devo ordinare anche la scrivania voglio che sulla scrivania ci siano diversi portagioie e quindi ne andrò a realizzare al limite uno un po' più altino uno ancora più alto in modo da fare questa sorta di scala di portagioie con ognuna al limite una categoria tipo uno con tutte le collanine uno con gli anelli una con gli orecchini a perno un altro con gli orecchini pendenti e così via così da tenere tutto selezionato e catalogato quindi andrò a realizzare altri altri portagioie questo stampo lo adoro e credo che andrò a riprendere anche un altro kit sempre per quanto riguarda il portagioie questo qui identico per poter poi in un'unica colata fare diversi cassettini in modo che non devo aspettare che si catalizzi uno stampo per poi farne un altro quindi averne a disposizione già due kit in modo da poter immediatamente colare quattro cassettini più ovviamente i due coperchi che poi uno terrò per un prossimo portagioie il risultato mi piace davvero tantissimo mi sono davvero divertita a farlo se anche voi amate realizzare cosine resine ve lo straconsiglio questo stampo perché è davvero carinissimo e versatile poi possiamo realizzarlo in tantissime sfumature colori diversi con glitter o anche qualcosa di tipo effetto marmo per rendere anche il tutto diverso niente io spero che questo video sia stato di vostro credimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao ciao